Non manca molto ormai e Sant'Anatolia di Narco è pronta a trasformarsi in un giardino colorato, fiorito e profumato e ad accogliere tanti visitatori per la diciassettesima edizione di Primavera in Valnerina, mostra mercato del giardinaggio e del florovivaismo, in programma nell'Abbazia dei Santi Felice e Mauro Martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. È ormai uno degli eventi più importanti del settore nel centro Italia, punto di riferimento e appuntamento immancabile per espositori selezionati provenienti da diverse parti della penisola. In una cornice unica, nel cuore della Valnerina, in un'area ampliata e rinnovata, i cui colori e profumi creano un'atmosfera molto suggestiva, saranno presenti circa 50 espositori e produttori qualificati con una proposta varia e di grande qualità che spazia tra piante insolite, officinali, pelargoni, peonie, rose, orchidee, camelie, fruttiferi, ortive, piante rare e zafferano. Ma anche ceramiche artistiche, arredamento da giardino e gioielli con fiori. La mostra mercato sarà aperta il 30 aprile dalle 10 mentre il 1 maggio gli stand si potranno visitare dalle 9 e 30. La Kermess, organizzata con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, prevede accanto all'esposizione, tante attività, laboratori, passeggiate, dimostrazioni e una ricca proposta per i più piccoli, nell'ambito del cartellone Primavera for Kids.